Allora, continuiamo la nostra trasmissione e ci occupiamo di un argomento organizzato dalla CGL del territorio del Calatino, una pubblica assemblea venerdì prossimo al Salone Milazzo, quindi Palazzo Municipale di Caltagirone e si tratterà il tema crisi economica finanziaria attuale, un'assemblea pubblica organizzata dalla CGL del comprensorio del Calatino, prenderà la parola il segretario comprensoriale della CGL Totò Brigadieci e il relatore sarà Gaetano Modica del comitato direttivo del sindacato pensionati italiani territoriali che è qui con noi, vi diamo il benvenuto, grazie di essere qui con noi. Grazie, buonasera. Qual è il rapporto tra i pensionati? La domanda è cretina, la crisi economica finanziaria attuale che si sta vivendo, che sta mettendo a repentaglio la tranquillità dei pensionati che dovrebbero avere le gratificazioni di una vecchiaia di tranquillità e invece la vivono colpa tema d'animo non soltanto per la propria situazione, ma anche per domani per i prossimi familiari, nipoti, figlioli e quant'altro. Prego, signor Modico. La CGL ha organizzato questa assemblea pubblica per spiegare i motivi del perché di questa crisi economica. crisi economica che è pesante, che ha messo in forte discussione sia all'avvenire della società nostra e dei nostri figli. Una crisi pesante che ha trasformato gli stili di vita e i modi di concepire anche il nostro presente e futuro, una crisi, badate bene, che non è data a caso, perché molti dicono che questa crisi è dovuta al caso, alla cosiddetta fluttuazione dei mercati, che significa questa fluttuazione dei mercati nessuno ce lo spiega. oppure una crisi data ad una questione negativa storica, invece no, perché tutto quello che succede in una società, politicamente e socialmente, sia nel bene che nel male, è frutto di scelte politiche ben precise e chiare. e quindi la CGL spiega il perché di questa crisi, insomma, perché non è come dicono loro, i politici non ne parlano, i partiti non ne parlano, si accusano fra di loro della venuta crisi, però nessuno spiega i motivi del perché di questa crisi, per la CGL invece questa è una crisi non dovuta al caso, ad una questione storica, assolutamente, ma è una crisi pensata, ragionata, studiata e messa in atto. Questa crisi colpisce una parte, la una piccola parte delle persone. Questa crisi c'è a chi giova e c'è a chi invece danneggia. Ora, a chi giova questa crisi? Noi lo abbiamo, tutti lo sanno, ma nessuno lo dice. Giova a chi questa crisi l'ha progettata ed attuata? Che sono quel gruppo, di fatti si riuniranno venerdì prossimo a Davos, quel gruppo di persone che sono l'1% dell'intera società, che detencono il potere assoluto. Questo 1% che oltre ad avere le banche, i mercati, le industrie, controlla il sistema finanziario, controlla e si è impossessato della politica. è detta alle regole, alla politica, ciò che si deve e non si deve fare. E la politica è al loro servizio. Mi dispiace dirlo e lo dico con grande dolore. I politici, i politici non solo non dicono niente, ma anche loro sono al loro servizio. Questo per difendere i propri interessi e i propri privilegi. Secondo la CGL questi hanno dimenticato i valori della solidarietà, i valori del pensiero critico e i valori del diritto e facendo propri i disvalori della disuguaglianza, del privilegio e del pensiero unico. Ora, perché questo è successo? Tutto non è che parte da ora, è un disegno politico che parte dal 1976. Da quanto, parliamoci chiaro, il sistema capitalista si è autotrasformato da capitalismo liberale, e io aggiungo sano capitalismo liberale a capitalismo liberista-reazionario, cambiando tutto in possessantosi della politica e di tutto ciò che ha determinato questo stato di cose. La CGL naturalmente, noi lavoratori della CGL con coscienza di classe e coscienza politica, noi ci rifiutiamo. Non accettiamo nel modo più assoluto che un'elite, l'elite o casta, i cosiddetti di super ricchi e super potenti, decidano le sorti dell'intera umanità, creando da un lato grande ricchezza per pochi, dall'altro lato grande povertà per molti. Così abbiamo da un lato la ricchezza, l'opulenza e l'avidità, dall'altro lato invece abbiamo povertà e miseria. E questo non lo possiamo accettare, perché il governo dice cose magari al contrario, dice che la crisi è passata, che l'abbiamo alle spalle e che quindi la ricchezza è aumentata perché è aumentato il PIL. Io dico va bene, sì d'accordo, aumentando il PIL aumenta la ricchezza, ma quando la ricchezza non è redistribuita si arricchiscono solo i potenti già ricchi, lasciando povero il popolo. Che diventa più povero. Che diventa più povero. La forbice tra i pochi ricchi e grandi si è aumentata. Insomma, chi si riunisce a Davos, Davos è, noi lo sappiamo tutti, quella piccola cittadina neppure è una cosa sciistica, dove si riuniscono i grandi della terra, le istituzioni a livello finanziario, bancario e industriale. Sono in tutto 40 persone. L'anno scorso ci è andato il presidente cinese in persona, quest'anno venerdì ci andrà forse Trump. 40 persone in rappresentanza dell'1% che decidono le sorti dell'intero mondo. E tutto ciò che decidono la politica dei vari paesi singoli la applicano senza affiatare. Vogliamo un esempio di questo proprio terra-terra? Lo dico con ramarico. Nel 2011, quando Berlusconi era presidente del Consiglio, eletto democraticamente dal popolo italiano, naturalmente essendo presidente del Consiglio voleva governare a modo suo, secondo la sua visione. I rappresentanti di Davos su Berlusconi dissero una cosa. Berlusconi è uno di noi, ma in questo momento non è con noi. E hanno aumentato lo spread italiano da 187 a 570, facendo pagare all'Italia interessi per 120 miliardi di euro. un colpo di stato. Berlusconi, puramente la maggioranza in Parlamento, fu costretto a dimettersi. Siamo rimasti tutti scioccati. Come? Lui, Berlusconi, si inchina al volere del potere finanziario. Certo, perché la politica deve essere al loro servizio. Noi, lavoratori della CGL, in tutto il suo complesso, che bene o male siamo operai, ma con coscienza di classe, coscienza politica e sociale, non accettiamo nel modo più assoluto che un gruppo di persone, un elitto casta, in nome dei loro privilegi, ogni giorno sacrificano l'umanità sugli altari dei loro paradisi fiscali. Noi non lo accettiamo. Di questo ci indigniamo e lì combatteremo. Perché non vogliamo una società dove l'uomo è considerato solo una merce. Senza dignità. E questo parte, ripeto, dal 1976, quando c'è stata questa autotrasformazione capitalista. Quelle politiche da capitalismo liberale, che produceva benessere sociale, sostituite col capitalismo liberista e reazionario, che invece produce malessere sociale, ha imparnato tutta una politica sia finanziaria che industriale e anche bancaria, a livello cosiddetto industriale, cioè capitale industriale, dal sistema liberale fordiano, si è passato al sistema liberista o Walt Belt, cioè i signori Belt sono una famiglia statunitense che nel 1972 hanno deciso di mettere in campo sociale nelle nuove politiche reazionari e liberiste. In primis, tutto imparniato l'industria sui bassi salari. Secondo, sulla delocalizzazione delle industrie. Trasferendo le industrie nei paesi sottosviluppati e producendo là, in loco, tanto a costi bassissimi. pensare che un operaio guadagna 2,50 euro al giorno, 80 euro al mese per 12-14 ore di lavoro al giorno, questo è schiavitù. nel senso, e per questo hanno ridotto i posti nei paesi occidentali, lavoro perché era retribuito naturalmente con contratti sindacali. e allora per questo hanno abbattuto anche i diritti all'interno dei posti di lavoro nel mondo occidentale. Perché prima il sindacato proteggeva tutta la classe operaia, non solo la classe operaia, ma proteggeva anche chi il lavoro non l'aveva, ai disoccupati, cercando di fare attuare al governo politiche per il benessere sociale perché si desse lavoro a tutti. Questa politica è stata sconfitta da questa ondata reazionaria liberista. un liberismo non più con le regole, quelle regole volute nel 1930 da Franklin Roosevelt dopo la grande crisi del 1929. Roosevelt mise delle regole al capitalismo sia a livello bancario, sia a livello finanziario, sia a livello industriale. Naturalmente prima l'industria, il sistema fordiano liberale, la contrattazione avveniva tra il capitalista e la parte del lavoro con i sindacati. La politica stava al di sopra delle parti, interveniva solo per mediare, ma tutti dovevano rispettare le regole che lo Stato faceva. ed erano regole per il bene dell'intera società. Invece ora quelle regole, ripeto, sono state abbattute e ora c'è un capitalismo liberista senza regole. Ognuno fa quello che vuole, basta avere soldi e tu comandi, sei il padrone, senza considerare nessuna etica, nessuna morale, nessuna giustizia. E queste politiche furono, diciamo, favorite e proprio appoggiate prima dal presidente Reagan e dalla Thatcher tra le fine del 1970 e gli anni 80. E poi dobbiamo dirlo anche il colpo di grazia tra il 1990 e il 2000 dal presidente Clinton e dal presidente Blair. Questi propositi hanno dato il colpo di grazie, consegnando l'intero mondo economico a quest'elite o casta di super ricchi e super potenti. La globalizzazione. Però la globalizzazione può avere degli aspetti positivi. Però in questo momento ha avuto aspetti completamente negativi, perché ripeto, da un lato produce avidità, grande ricchezza e opulenza. Dall'altro lato invece servilismo toglie all'uomo i diritti, toglie all'uomo la dignità. E questo noi siamo contrari della CGL e per questo abbiamo organizzato questo, per spiegare queste cose alla gente. Perché non vogliamo che noi, che la politica faccia quello che sta facendo ora, cioè nulla. La politica è entrata totalmente nell'era del silenzio, nell'era proprio insignificante, nell'era dell'assenza. Delecanto tutto a questi papaveri a livello finanziario e anche industriale, perché è il grande capitale. E magari no poi... E' una cosa importante. Questi grossi finanzieri, prima la contrattazione e compra e ventita di tutto ciò che si produceva nel mondo, avveniva attraverso il mercato ordinario, dove passavano da 7 a 12 biliardi di euro. Ora hanno inventato un altro mercato, il mercato parallelo. Lo chiamano alternativo, o come lo dicono i grandi finanzieri, lo chiamano mercato nudo. Nudo perché non si vende e non si compra nessuna merce. Si compra e si vende solo il futuro che si produrrà nel mondo. Sono vere e proprie scommesse, dove passano ogni giorno dai 7 ai 12 triliardi di euro. E questi soldi non è che sono soldi che escono dalle zecche dello Stato. Sono soldi che escono dalle banche costruite, fatte dalle bestie dalle banche attraverso il credito. Sono pure scommesse tutto in mano a loro e la politica non dice niente, è assente. Come possiamo accettare tutto questo? Finquanto il popolo non prende coscienza, una coscienza sociale, una coscienza politica, che parte dal di dentro e fa un muro contro questa, diciamo, una nuova schiavitù. Non è possibile questo. Noi ci ribelliamo. E ecco perché noi della GGL, ripeto, non vogliamo l'abbattimento del capitalismo, ma un capitalismo regolato dallo Stato. No, un capitalismo, il sano capitalismo libera al social democratico, dove l'uomo non venga considerato una merce, ma dove l'uomo venga al centro, l'uomo e i suoi bisogni al centro della società. Certo. Questo a noi non spieghiamo. E per questo noi facciamo appello a tutto il mondo del lavoro e non solo al mondo del lavoro, ma al cedo, a tutti i cedi popolari, al cedo medio che si è completamente impoverito, che loro dicono che si è proletarizzato. Perché? Perché, ripeto, quella forbice tra ricchi e poveri si è allargata. E quindi noi facciamo di nuovo appello, ma non solo per noi, appello anche per i nostri figli, perché il 50% dei giovani è disoccupato ed è mantenuto. Molti di questi sono entrati nella disperazione perché molti di quali dicono che noi facciamo di questa libertà che ci date, senza lavoro, siamo soggetti al bisogno e quindi privi di libertà e privi di dignità. Noi auspichiamo ad un ritorno di quel capitalismo liberale democratico che dia benessere alla società. Un capitalismo ed un governo, la politica deve riprendere il ruolo che ha, che aveva e che ha perduto. quel ruolo che è quello di legiferare, dettare le regole per tutti, per il bene dell'intera società. Questi sono gli argomenti che saranno, sono stati trattati a larghe linee, diciamo, dal signor Gaetano Modica, venerdì prossimo, 26, presso il Salone Milazzo di Calteggerone. Lei deve essere un vecchio comunista però. Io sono stato sempre un socialdemocratico, avevo vent'anni, mi iscrissi al partito comunista perché, essendo soggetto al bisogno, io vengo, la mia estrazione è una estrazione proletaria. Una volta mi trovavo a Catania, mia madre ricoverata in ospedale al Vittorio con un cancro all'utero. Perdeva sempre sanque. Io dovevo comprare 300 grammi di sanque ogni tre giorni. ero subvenzionato da mio nonno, ogni giorno andavo davanti all'ospedale, sceglievo una persona con la faccia rosea, perché non si facevano esami, ne prendevo uno a caso e gli davo allora 35.000 lire nel 1967 e compravo il sangue. Ed era un giorno avevo speso un sacco di soldi, e io ero giovane, vent'anni, e mi trovavo i miei etnei a passeggiare di sera. E c'era un commizio. Io esco, ho un'educazione salesiana, io esco dal Sant'Agostino. Sono stato educato e formato dai salesiani. Perciò si figura, io sono ancora ora un cattolico osservante. Disse una frase, mi colpì. Noi vogliamo una società dove ci sia la sicurezza dalla culla alla morte. E io dissi, questo è il partito da cui io aspiro. Era il partito comunista. Però io non sono mai stato comunista nel vero senso della parola. E di fatti questo chi mi fece diventare un socialdemocratico coscientemente fu nel 1970. A Caltagiove venne Lucio Lombardo Radice, per il cinquantennario del partito comunista. Io ero per tre giorni, fui il suo accompagnatore. Andavo... Al momento di portarlo all'albergo Trinagri a pranzare, lui mi diceva No, tu stai con me e pranzi con me. Lucio Lombardo Radice me lo presentarono. Era un grande scienziato, un matematico, algebra pura, geometria astratta. Tutti hanno studiato sui testi di Lucio Lombardo Radice. E mi diceva Dimmi Tano che cos'era? Mi metteva a suo agio. Io allora giovane, sproveduto, politicamente non capivo. Dico, dimmi una cosa, scusami. Ma se i comunisti vanno al potere, tolgono e spropriano la Fiat Agnelli E lui si mese a sorridere. Dice Tano, in Italia non c'è niente da spropriare. Guardi che era il 1970, sono passati cinquant'anni. Non c'è nulla da spropriare. E allora le ricchezze che a Berlusconi rimangono a loro. E lui mi disse Vedi, noi non compattiamo la ricchezza. Noi compattiamo la povertà. Se c'è una ricchezza che genera che genera per la società benessere quella è una ricchezza che dobbiamo difendere perché è patrimonio della società. Infatti non per niente la Fiat di Agnelli era sovvenzionata allo Stato. Mi fece un piccolo esempio. Io non capivo. Dico, spiegati. Dici, senti, Agnelli, tra l'industria, le filiali e gli operai da mangiare a 350.000 famiglie quella è una ricchezza che si deve difendere. Mentre quando una ricchezza si basa sulla miseria e sulla povertà degli altri allora quella è una ricchezza che si deve difendere. Ecco perché io sono contro il liberismo e per la socialdemocrazia. mi sono sempre ispirato alla socialdemocrazia nordica perché è un liberalismo che produce benessere per la società. Va bene, chiarito il discorso, forse era una curiosità mia. L'appuntamento quindi per approfondire queste tematiche sulla crisi economica finanziaria vista dai pensionati ed è un osservatorio certamente importante e privilegiato ma perché hanno la storia, hanno un trascorso personale così come ci ha raccontato il signor Gaetano Motico. L'appuntamento è per venerdì 26 alle ore 17.30 presso il salone Milazzo del comune di Calteggerone a Pianterreno organizzato dalla CGL appunto questa pubblica assemblea per dibattere sulla crisi economica finanziaria attuale vista appunto dai pensionati. Grazie a signor Gaetano Modica, relatore e componente del sindacato pensionato italiani territoriali della CGL. Poi tra l'altro interverrà anche Maurizio Calà, segretario generale del sindacato pensionato italiani di Sicilia. Sì. Grazie in bocca al lupo, buon lavoro. Prego, grazie. Grazie a voi. Grazie anche di questo spaccato di storia personale devo dire. Va bene? Grazie. Grazie. A presto arriveremo. Fermo, fermo, fermo. Sì. Grazie. Do la linea a Enzo Nicoletti, conturrà e chiuderà lui questa trasmissione. Pausa pubblicitaria, noi ci rivediamo giovedì prossimo alle 21.15. Buon proseguimento con Enzo Nicoletti. film Long � compartmentalipe. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho Captain measurements come tutte due sui vievi tutta